Cari amici normoragionanti, ho visto con divertito interesse il video Perché resto nella Chiesa nonostante tutto, appena pubblicato dal nostro ineffabile visiting professor all'Università di Scuteri, Albania, professor Giovanni Zenone, il quale ha trovato finalmente la viuzza, perché voi vi ricordate che all'inizio pubblicò un video su Codice Ratzinger dicendo, sono solo cretinate, ora siccome non aveva argomentato minimamente, è stato subissato da una valanga di improperi, ha deciso di cambiare strategia, ha detto, vabbè ma adesso che volete che ci importi, chi è il Papa e chi non è il Papa, altra valanga di commenti negativi, perché chiaramente questa è una posizione luterana, di disinteresse per chi sia il Papa, come per i cattolici è fondamentale, Ubi Petrus, Ibi Ecclesi, insomma poi deve aver aggiustato un po' il tiro e ha pubblicato il libro di Michelin, che abbiamo smentito radicalmente, quello in cui si dice che Papa Benedetto non era più lui, perché immaginiamo si era un po' rimbambito e aveva ritirato fuori una teoria della sacramentalità del Papa che pure lo stesso Michelin dice che Ratzinger non aveva mai condiviso. Vabbè, adesso di fronte recentemente al mio invito cordiale, nonostante io abbia ricevuto insulti di tutti i generi da Zenone, feccia del mondo delle lettere, prostituta del mondo delle lettere, nonostante tutto sono riuscito a mandargli un messaggio pacifico, guardi le cose stanno così, eccetera, parliamo nel pacificamento, e lui che cosa fa? Svicola citando il Beato Rosmini e dice, beh siccome Rosmini non ammetteva che si mettessero in discussione i dogmi della fede e quindi lui non accettava una discussione sui dogmi della fede, anche io faccio come il Beato Rosmini, cosa che non c'entra nulla perché nessuno gli ha messo in discussione i dogmi della fede, ma si parla di una questione canonica, lo stesso Giovanni Paolo II nella Universi Dominici Gregis parla continuamente di valida rinuncia del Pontefice o di valida elezione del Pontefice, quindi è una questione canonica, praticamente. Adesso ha trovato una nuova formula per continuare a disertare dalla battaglia millenaria e per continuare a fare i suoi interessi indisturbato. E qual è questa soluzione? È la soluzione del sedemasochismo spiritualista, cioè, andatevelo a sentire, lui dice, ma no, bisogna guardare questa crisi della Chiesa in una prospettiva escatologica, ecco perché io non abbandono la Chiesa come fanno gli altri, e qui probabilmente si riferiva a Domi Nutella, il quale non ha mai abbandonato la Chiesa Cattolica, mai e poi mai, è stato punito, sanzionato, scomunicato, sospeso a Divinis, spretato dagli usurpatori della Chiesa Cattolica, ma lui si è sempre professato in comunione con il vero Papa e con la Santa Madre Chiesa, quindi di che cosa sta parlando Zenone? Tra l'altro possiamo ricordare anche che Sant'Atanasio fu buttato fuori dalla Chiesa Cattolica nel momento in cui avevano preso il potere gli ariani, no? Quindi non è che siccome uno viene buttato fuori dalla Chiesa Cattolica, automaticamente si fa la Chiesetta per conto suo. Non sta scritto da nessuna parte, non è così. E allora che cosa dice Zenone? Dice, bisogna rimanere ai piedi della croce, bisogna soffrire come ha fatto Gesù e non abbandonare la Chiesa perché al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Sentite un po' che cosa ha il coraggio di dire. O più sottilmente, cercando di rifugio in una Chiesa, tra virgolette, che ci garantisca tranquillità, la Messa e il Catechismo di sempre, ma una Chiesa che in teoria nella pratica si sottrae all'autorità di Pietro, anche se Pietro è un criminale ubriaco. E certo, anche se Pietro è un criminale ubriaco, no? Quindi questa è la vecchia storia del Papa eretico, purché Papa. No, sì, vabbè, Bergoglio è cattivo, brutto, eretico, apostata, però è sempre il Papa e quindi noi siamo giustificati nel rimanere comodi, comodi dentro la Chiesa. E questa è la soluzione. È di una tristezza infinita. Questa ipocrisia, questa aviltà. Sentite come procede. Allora saremo nella logica di voler salvare noi la Chiesa, come i discepoli pretesero di salvare il Signore e di voler salvare poi noi stessi, ma non nel modo in cui intendeva Gesù. Eh certo, no? Allora San Bernardo di Chiaravalle, perché sei sceso in armi con l'imperatore per spodestare l'antipapa Anacleto II? Perché poi sei riuscito a convincere l'antipapa Vittore IV a togliersi di mezzo, ad abdicare perché non era il vero Papa, no? Perché Santa Caterina da Siena hai preso posizione pubblica contro l'antipapa? Perché voi tutti i cattolici vi siete massacrati in duemila anni di storia della Chiesa per combattere 40 antipapi, vale a dire uno ogni sette papi. Uno ogni sette papi non è un Papa canonicamente eletto. Potevate fare come il professor Zenone, stare ai piedi della croce, soffrire nella Chiesa dell'antipapa, meglio se eretico, e continuare a fare i vostri comodi. questa è la realtà degli Unacum. Peraltro, peraltro, Zenone si permette di dare a tutti quelli che stanno in comunione con la vera Chiesa dei farisei. Sentite com'è, sentite com'è. dice, la strada, peggio per lui. Continuate a fare come i farisei, come i sommi sacerdoti di quel tempo, farete la loro fine. Peggio per voi. Sapete già tutto, quindi se volete persistete ottusi, psicotici, a seguire uno psicotico, a seguire questa visione terra-terra invece che spirituale, peggio per voi. Ecco, la visione terra-terra è quella del diritto canonico, che discende direttamente dal diritto divino. Questa è la visione terra-terra, secondo Zenone. Non è una questione burocratica. Che volete che sia? Che importanza ha che gli articoli 76 e 77 della Universi Dominici Gregis dicano che se la vacanza della sede non è avvenuta a norma del carone 332.2, l'elezione è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito ed essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Che volete? Sono solamente delle regolette da zecca garbugli, anche se le ha promanate il Papa Giovanni Paolo II. Chi se ne importa? L'importante è rimanere ai piedi della croce, rimanere in comunione con il Papa, anche se è un ubriaco e un criminale. E poi Zenone termina il suo intervento in modo clamoroso. Andiamo anche noi a morire con lui, Giovanni 11-16. Certo, andiamo anche noi, restiamo nella chiesa come in una prigione, la sentiamo come una prigione? Benissimo, io mi dichiaro colpevole, colpevole di essere cattolico e rimango nella chiesa e qual è la chiesa? Ubi Petrus Ibi Ecclesia. Bene, e qui direi che si potrebbe anche chiudere questo intervento, no? Ubi Petrus Ibi Ecclesia. Ed ecco perché Zenone, quando gli si mostrano i documenti che spiegano in modo totale come Bergoglio non sia il Papa, lui si mette le dita nelle orecchie come Carlo Verdone e fa i versi per non sentire. Capite? Perché poi, se Bergoglio è antipapa, bisogna prendere una posizione o di qua o di là, o con Bergoglio o contro Bergoglio. E poi come li vendo quei quattro libri di fede e cultura? Come faccio poi a vendere contemporaneamente i libri di Don Roncaglia che dice che Benedetto era sempre rimasto il Papa, che non aveva mai abdicato, che Bergoglio non è il Papa e poi a vendere anche i libri di Michelin che dice che Papa Benedetto non era più lui? Capite? E quindi è meglio rimanere ai piedi della croce, soffrire in prigione, in una chiesa che sembra la prigione, con il Papa ubriaco e criminale che però è sempre il Papa. E non mi raccontate le favole che non è Pietro. E certo, non mi raccontate le favole che non è Pietro, perché poi se provate a raccontarmele io vi rispondo citando il Beato Rosmini, per cui non accetto che venga messo in discussione il dogma della virginità della Madonna. Cari amici, questi sono gli Unacum. La storia riserverà loro un destino atroce, probabilmente peggiore di quello dei Bergogliani, perché i Bergogliani hanno una loro dignità luciferina, svolgono un ruolo escatologico, la separazione della Chiesa di Cristo dalla Chiesa dell'Anticristo. Ecco, invece queste minutaglie, questi residui del cattolicesimo, questi scampoli di cattolici che cercano di mantenere i piedi in due staffe, riceveranno il disprezzo di tutti. Il disprezzo dei Bergogliani, il disprezzo dei veri cattolici, ma soprattutto, in ottica di fede, il disprezzo di Dio che vomita i tiepidi, come sapete. Voi continuate a seguire lo psicotico, ma sempre con il vaglio della ragione, perché se io sono psicotico voi siete normoragionanti e quindi tutto quello che io dico cercate di documentarlo in modo critico, in modo rigoroso e vedete se rispondono alla realtà oppure no. Non fate come Zenone che invoca a casaccio il Beato Rosmini per scappare come un coniglio dal confronto nel merito. Perché? Perché lui tiene famiglia e quindi deve vendere quei quattro libretti di fede e cultura. Vi aspetto per la 45esima presentazione di codice Ratzinger, il 30 a Cagliari, il 31 a Oristano, il 5 ad Anzio, il 6 a Terracina. Un caro saluto a tutti e se non vi siete iscritti a questo canale, per favore mettete click sul tasto iscrizione. Un caro saluto a tutti, Andrea Cionci.